E questa partita potrebbe iniziare e finire male, ve lo dico. Non lo so. Tutto il mio primo match di oggi, io tutti i giorni vi dico la stessa cosa perché tutti i giorni io non gioco la mattina a Brostar. Scusa? Ma dove è passato questo? Oddio la scimmia! Clamoroso! Ci sono le mine eh? Occhio! Che i santi poi li dirò io. No, no! Eh vabbè ho capito però, manco a dirlo eh. Ok. Una scimmia! Cacchio è combinato questo! Pazzito! Ok. Ha fatto un qualcosa di incredibile questo o sbaglio? O l'ho fatto schifo io? Ma perché ti ero e di Miao? Mi piaceva il nome Miao. Va bene? Sì. No! Ok, recuperiamo. Ne manca uno. Eccolo qua. Ok. 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 Magari così non lo aiuto. Oh! La spina! No! Certo che questo qua poteva mettere il pirulino eh. Corri scimmia! Corri scimmia! Corri scimmia! Corri scimmia! Corri! Che cacchio spinni! No! Ragazzi 8-4 ha fatto questo! Famoroso! Eh ma tanto ce la carri ai Nano-Ox con Rico. Easy! Vai Nano-Ox! Ma non ha messo il gadget questo. Occhio a Marco-Tm. Quanto Marco come sguscia. Marco. Mi sa che Nano-Ox non gioca più. Ah vedi che adesso l'ha messo. Nooo! Impossibile eh. Lo spike mi sta dando diversi problemi. Oh e sparagli un colpo di banca a me. Eh grazie. Grazie. Grazie a tutti! 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 Tutti un po' mi pare di così. Ma cos'è? Non m'ha visto? Ma non m'ha visto? Non m'ha visto, ma no! M'ha visto anche troppo bene! Spara! E va bene però! Grazie a tutti! Oddio! Ho fatto un mega predict Mazzà che traiardo Mortis ha piccato Mortis Aia Aia Glicco Aia Ok che devo fare? Ne vedo un po' confusi i miei Ma se tipo a quello con Jesse Gli faccio una di quelli assalti Acceganti Incredibili Ok una è andata No Oh quello con Jesse Mira Quello con Perlo un po' meno Come è entrato il secondo colpo di questo No ma Ma scusate ma lo vedete Questo qua con Jesse Che non mi misse un colpo Manca a pagarlo Ma che cacchio Oh Ok facciamo così che c'è più spazio Oh No 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 guarda che no e comunque SPC questo qua è clamoroso con Jesse complimenti tutto ragazzi con Jesse serve quasi un miracolo questo qua spacca 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 però spacco di più questo è saltato su un perlo comunque su una perla quello che è avessi idea di quanti me l'hanno chiesto oltre agli aiuti in questo momento ho uno spam ragazzi su youtube di gente che mi chiede dei rank 30 vabbè easy easy con perle non si perde mai 8 2 un animale comunque erano bravi anche i miei ammetto che erano molto bravi cazzo ma qualcuno gliel'ha detto che deve mintare lui nooo per prendere più persone ho fatto una ulti orribile lo sapevo che dovevo spaccarla in faccia alla rosa ok non mi sembrano molto attenti loro però nemmeno io devo dire che sono sembrato molto sveglio mi rifarò allora togliamo le mine ce ne ce ne dovrebbe essere un'altra infatti eccola qui ma questo qua oh ma stai a casa tua scusami ma è rosa che è in sequescenti ma è sicuro questo che ci riprovi adesso round eeeh l'ho visto l'ho visto eeeh vabbè popi popi pol copi hai cliccato il gadget lì guardate perle come va e trita e vai e trita oh no 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 ok si gode ma boh non sa giocare l'ho detto questi non erano troppo svegli però meglio per noi e che fate raga ce lo buttate quando mi ricapita noi comunque stiamo giocando con Leon Mid con tutto questo ok 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 è buono come mai scappi ma non ho cliccato gadget Leon mi devi un favore? mi sa anche due è a posto leggenda 1 raga così